E' partita anche la terza serie, prima corsia Francesco Greggios, Industria Sport, Palova, seconda corsia per Stefano Marchesan, Atletica Nevi, terza corsia per i compagni di squadra Matteo Paltan, quarta corsia Cristian Tecuceanu, Sitta Ultralight Vittorio Veneto, quinta corsia Matteo Merigatti, Fondazione Benzegodi e sesta corsia Giovanni Toto Pus Pabllo. Ingresso in rettilineo per i due compagni di squadra dell'Atletica Nevi, si giocano anche in titolo sociale, immagino, è in terza corsia che probabilmente Matteo Paltan con il tempo che non si ferma, quindi non siamo in grado di dirlo.